Le campane di San Cassiano hanno suonato a festa per l'ordinazione episcopale di Don Giovanni Mosciatti, Vescovo eletto che ha fatto il suo ingresso nella diocesi di Imola. Oggi un momento di festa per la comunità imolese? Sì, un grande momento di festa. Quello che ci apprestiamo è salutare il nuovo Vescovo che prenderà un'eredità sicuramente importante, quella lasciata dal Vescovo Ghirelli. Siamo certi che guiderà la nostra comunità nel migliore dei modi. Ho già avuto modo di scambiare quattro parole. È una persona, devo dire, molto semplice e vedo già un cuore molto grande. Quindi siamo qui tutti contenti di iniziare questo percorso insieme per la nostra comunità. Cosa si aspetta dalla comunità imolese? Che mi accolgano per quello che sono nella mia povertà, però che magari accettino di fare la strada insieme. Può darsi che c'è qualcosa di buono da vedere. Ha voluto proprio lei questo momento di festa in quanto è appassionato di musica? Sì, anche perché io era da quando avevo 15 anni che abbiamo girato l'Italia suonando e partecipando a tutte le grandi feste che c'erano. Quindi la festa è un momento in cui si può comunicare la gioia e la bellezza anche degli esseri cristiani. Ed è per questo che con i ragazzi che stanno suonando adesso, che da tanti anni che suoniamo insieme, abbiamo deciso di chiudere in bellezza questa grande festa, offrendo a tutti un'occasione di gusto, della vita e di bellezza per le cose grandi. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei la stella, tu sei la stella, tu sei la stella, tu sei la stella. Grazie a tutti